Io ritengo che sia molto interessante perché mette insieme gli aspetti teorici con gli aspetti pratici, se vogliamo, per dirla in semplicità, il terreno di campo con il laboratorio. A livello organizzativo può lasciarci due parole? Meglio di così, è difficile anche considerando la perfezione dei tempi, la perfezione degli inizi, dell'escansione delle relazioni, tutto perfetto.